Berlusconi non capisce o fa finta di non capire. Il problema non è di essere gay o eterosessuale, scelta assolutamente rispettabile e assolutamente privata. Esistono in Europa leader politici dichiaratamente gay, ma nessuno di questi ha mai trasformato una sede pubblica in un luogo di grotteschi festini e soprattutto nessuno è mai intervenuto per far rilasciare un partner colpevole di qualsivoglia reato.